40 anni dopo l'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale è tempo non solo di stilare bilanci ma soprattutto di pensare al futuro. A Novara, Regione Piemonte e Consiglio regionale in collaborazione con il Coripe hanno organizzato una giornata di convegno per ripercorrere le conquiste della legge 833 del 1978 e per tracciare le linee guida della salute pubblica in Italia nel prossimo futuro. Proprio il Piemonte negli ultimi anni ha lavorato per rilanciare il suo sistema sanitario tagliando sprechi e migliorando servizi. Un impegno che ha portato la Regione al primo posto in Italia per la qualità delle prestazioni secondo il monitoraggio della Griglia Lea pubblicato dal Ministero della Salute. Significa che senza cancellare tutti i problemi che comunque ci sono il lavoro fatto in questi anni è molto importante. Cosa deve fare in futuro il Piemonte? Deve sicuramente continuare a tenere la barra dritta su alcune questioni come ha fatto in questi anni e approfondire e migliorare soprattutto l'integrazione ospedale e territorio, potenziare la prevenzione e i servizi sul territorio lavorando soprattutto sulla cronicità che è la vera sfida del futuro. La 833 ha realizzato in Italia un sistema sanitario equoaccessibile a tutti che ormai stabilmente è tra i primi tre al mondo per efficacia e qualità delle prestazioni e delle cure. Un sistema che nei prossimi 40 anni è chiamato a nuove sfide dall'abbattimento delle liste di attesa alla valorizzazione dei professionisti tutte da affrontare senza perdere i presupposti di solidarietà e di universalità. Per essere efficace però il nostro sistema sanitario dovrà essere sostenibile, governato a tutti i livelli e affidato a un personale conscio dell'importanza di portare a termine il proprio compito. Un sistema di questo genere ha bisogno di collegarsi con tutti gli altri soggetti, quindi i soggetti privati, i soggetti che concorrono a fare sì che il sistema sanitario italiano sia nelle grandi strutture pubbliche, quello meglio posizionato nel mondo.